Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come cambiare lingua a Elden Ring ovviamente cambieremo tutto, ovviamente non c'ha il doppiaggio in italiano, c'ha la lingua in inglese però i sottotitoli c'è chi li tiene in inglese quindi non riesce a capire il gioco quindi in questo caso andremo a modificare tutto nel percorso file del gioco quindi nella sua cartella ovviamente se vai nella cartella di Elden Ring per esempio sulla rotellina, vai su sfoglia e file locali vai nella cartella di Elden Ring, eccola qua, troverai così il file stream rottino basso emu, ci clicchi sopra scendi fino a giù fino a trovare language, questo qua, english, tu metti italia file, salva il file e chiudi tutto, una volta fatto puoi avviare Elden Ring senza problemi come puoi vedere premi un pulsante qualsiasi nuova partita, accedi, sistema, esci dal gioco, come puoi vedere la scritta in interfaccia è in italiano quindi se questo video ti è stato utilissimo su come cambiare lingua a Elden Ring iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao